Buongiorno ragazzi, in questo periodo mi state facendo un sacco di domande riguardanti l'attrezzatura per le nostre uscite outdoor Quale coltello, quale fornello, quale zaino, acquistare che siano di qualità e soprattutto che costino poco Di solito la qualità costa ma non è sempre così Oggi vi faccio vedere 5 pezzi della mia attrezzatura che utilizzo abitualmente Che sono di qualità ma che nello stesso tempo costano poco, siamo sotto i 20 euro Tutti questi oggetti li trovate su Amazon, vi ho lasciato i link in descrizione Prima di cominciare però è necessario fare alcune cose Mettete subito un bel like altrimenti non inizio proprio Mi alzo, prendo tutto e me ne vado No non è vero Ho quei 3 o 4 che mettono sempre il pollice all'ingiù Mettano pure il pollice all'ingiù, non si sentano in alcun modo in imbarazzo Altra cosa che vi invito a fare è andare subito nei commenti A scrivere quali sono i vostri 5 oggetti per l'outdoor imperdibili sotto i 20 euro Lo so che ce li avete e che ve li portate sempre Io voglio sapere quali sono quindi andate subito a scrivere Mettete un attimo in pausa il video Io vi aspetto Fatto? Ok, parto con i miei Fornellino dell'outsmart Lo so che ne ho già parlato in un altro video Poi ve lo metto alla fine Però voglio farvelo rivedere perché secondo me è veramente un oggetto incredibile Probabilmente il miglior acquisto di quest'anno per quanto mi riguarda Guardate le dimensioni Questo fornellino è l'ideale se avete bisogno di un sistema di cottura che sia ultra compatto ed efficiente Non sto a dilungarmi troppo qui perché ho già spiegato tutto nell'altro video Come ho detto ve lo lascio alla fine Andatevelo a vedere se siete interessati a questo tipo di oggetti che personalmente a me piacciono tantissimo Oh ma sto fornello come l'accendiamo? O con l'accendino oppure i più audaci usano il Firesteel Io non sono un grande utilizzatore di Firesteel Infatti questo qui è l'unico che abbia mai acquistato ed utilizzato Ne ho altri che mi sono arrivati insieme ai coltelli però non li uso È il classico acciarino della Light My Fire Secondo me è perfetto per i principianti Perché è di qualità, funziona benissimo ed è facile da usare Se state facendo un pernottamento sicuramente vi servirà una torcia Vi faccio vedere questa qui la I3E della Olight Anche questo qui è un oggetto minuscolo che vi ruberà pochissimo spazio Ma che nello stesso tempo ha delle ottime prestazioni 90 lumen completamente impermeabile Ottima come torcia da campo o date le dimensioni come torcia da EDC Alzi la mano chi deve bestemmiare ogni volta che c'è da riporre il sacco a pelo Ho comprato qualche mese fa il mio sacco a pelo definitivo invernale Un Cumulus bellissimo Tutto fantastico tranne la sacca Mi sono caduti sulla sacca Troppo piccola con una chiusura non adeguata E quindi quando vado a mettere dentro il sacco a pelo Non c'entra bene tutto quanto e mi rimane fuori una protuberanza Una cosa indecente Per ovviare a tutto ciò ho preso questa sacca di compressione Vediamo se riesco a farvela vedere bene Della Alpidex Eccola qua Questa secondo me è fantastica perché è dotata di queste cinghie Che permettono di ridurre parecchio il volume del sacco a pelo E quindi di infilarlo più agevolmente nello zaino Ma cosa ancora più fantastica Ha questa linguetta Che si ripiega Verso l'interno E che quindi impedisce la formazione di quella famosa protuberanza indecente Di cui parlavo poco fa Quindi se avete problemi di volume Questa qui è assolutamente consigliata Ultima cosa che vi faccio vedere è questa pinza della Manfrotto Pinza per il cellulare Tutti noi facciamo foto e video delle nostre avventure Io ho le videocamere ma molto spesso mi capita di utilizzare anche il cellulare Specialmente per Instagram Questa la porto sempre perché è comodissima Ha due filettature Una qua e una qua E quindi permette di fissare il telefono praticamente in qualsiasi posizione E in più ha dietro questo piedino Quindi si tiene su anche da solo Ok ragazzi questi erano i miei 5 oggetti outdoor imperdibili sotto i 20 euro Adesso mi vado subito a leggere i vostri E se c'è qualcosa che mi piace me lo prendo pure Spero che questo video vi sia piaciuto Che vi sia stato utile In tal caso vi invito ad iscrivervi al canale Se ancora non l'avete già fatto Perché sarà un autunno pieno di avventure E non è il caso che voi ve le perdiate Un saluto ragazzi state bene e ci vediamo ad un prossimo video